E partiamo, partiamo col primo segreto, allora il primo segreto dei sette segreti è appunto la finestrella. Infatti qua a Bologna scorre un corso d'acqua appunto sotto la città e l'unico punto in cui si può vedere questo corso d'acqua è in via Piella. Noi siamo proprio qua in via Piella e andiamo a vedere la finestrella. Qua abbiamo appunto uno dei punti in cui si vede il corso d'acqua e proprio di fronte, dall'altra parte, abbiamo la finestrella. Adesso infatti ci avvicineremo alla finestrella e appunto l'apriremo come fanno tutti i turisti. Grazie a tutti.